C'era una volta una macchinina che voleva diventare grande, non era impossibile, doveva fare una gara a ostacoli fatti di colpi del Nerf e da una palla gigante. Inizia la gara, poi dopo qualche metro la macchinina era in vantaggio ma per fortuna. E dopo qualche curva la macchinina rossa è in vantaggio. Infine schivando la palla gigante riesce a vincere la gara conquistando. Doca così il premio finale, cioè diventare una macchina grande. Grazie. Grazie. Grazie.